E con questa bellissima immagine oggi possiamo continuare la nostra carriera con il Parma e il nostro Massimiliano Allegri. Allora, prima partita di oggi contro il Venezia che sta a ottavo, ma solamente a un punto da noi, quindi bisognerà stare molto molto attenti. Allora, l'inglese torna in pianta stabile, Miaila, Usorio e Valenti perché gli altri due sono stanchi, Pezzella e Delprato. E il resto, la squadra mi sembra abbastanza in forma, abbastanza in forma. Mi porto Antuna, mi porto, mi porto, mi porto Cicaldo, ok? E andiamo ad affrontare questo Venezia che potrebbe essere complicato perché Venezia è una bella squadra, reduce dalla Serie A dell'anno scorso e gli avevamo rubato Busio, questo è vero, però insomma non sarà semplice. Secondo me no, secondo me no. Ecco, partiamo malissimo. Del Prato? Del Prato? Vabbè, questo si perde la palla e va a fili in fondo. Tra l'altro è Johnson, mi sa che l'avamo noi cercato nel mercato, non ricordo male. Del Prato? Quella palla per Valenti. Daie. Miretti. Miaila. Miaila. Hai visto? Pezzella, cos'è? Perché Pezzella sta roba? Cosa mi rappresenta? Calma. Calma. Bravissimo Pezzella. Bravo Pezzella. Bravo, bravo. Miretti. Miaila. Bravissimo che si ferma nel momento giusto. Inglese. Per Pezzella. Miaila che si sovrappone molto bene. Busio, ex della gara. Ma Busio, ma Busio, mannaggia a te, mannaggia. Veramente mannaggia a te. Calma, calma. Gestiamola in fase difensiva. Gestiamola in fase difensiva. Bravo Pezzella. Prosegue nella sua mattina. No. Bravo Valè. Eh, però se gli ha ripassi. Usorio. Intervento da serial killer. Piuric. Eh, no, no. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato due volte. Fuori. Eh, ma è calcio d'angolo. Eh, Venezia che... Che insomma. Insomma. Ci mette in difficoltà, eh. Venezia che, insomma, non è scarso. Come poi vi dicevo. È una squadra che ha... Ha molto da dire, secondo me. Molto da dire. Miaila. Vede Alvarado. Robertino. Robertino, vada solo. Ci prova, quantomeno. Eh, però... Non è sufficientemente veloce. Ma vede Miaila. Che però è troppo sul portiere. Non può fare niente Miaila. L'ha provato, ma... Non ha funzionato. Miretti. Per Roberto N'inglese. Miretti? Ma cos'è, Miretti? Ma cos'è? Ma cos'è? No, Osorio, no. Ti prego, Osorio. Guarda lì non può tirare. Eh, però Pezzella la controlla malissimo. Ah... Ok. Allora. Allora. Primo tempo che non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché non siamo riusciti a fare neanche un tiro in porta. Perché Pezzella è così stanco? Alla faccia. Come fa a essere così stanco Pezzella? Faccio una cosa che non va. È già devastato. È solo il primo tempo. Ma è infortunato? Non ho ben capito il perché sia così stanco. Miretti. E Miaila. Ancora Miaila. Entra in aria. Robertone inglese? No. No, Robertone. No, Robertone. Miretti. Tenta il cross. Fermi, Aila. C'è Busio. No. Ancora Pezzella. Per Juric? Eh, vabbè, però. Sta a parare di tutto questo. Sta a parare di tutto. Non si può fare. Ancora Miretti. Ancora Miretti. No. Ma cosa ha preso? Ma che è questo? Sta a parare di tutto. Bravo Busio. Miretti. Ci prova. No. Miretti, resisti. Aia. 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 Attenti in mezzo. Bravo Buffon. L'ho fatto uscire apposta. Juric. Juric. Roberto l'inglese. Eh, però. Facemi Aila. Juric. 1-0 Parma. Si passa in vantaggio. Con Juric. Mamma mia che. Che bella azione che abbiamo fatto. L'inglese fa un bellissimo assist qua, eh. Bisogna mettere qua. L'inglese fa un bellissimo assist. Centrocampo. Difesa. Morti. Ma che è successo a questa squadra? Mettiamo Grassi. Mettiamo Cicaldo. E... Bernabè. Anzi, anzi. È vero che possiamo fare 5 cambi. Mettiamo anche Antuna. E mettiamo anche Carpentier. Squadra che è stanchissima. Non so il perché. O che ho messo il pressing alto. Però non è mai stata così... Così... Ehm... Come dire... Così stanca la squadra in generale. Non è mai successo. Bravo Grassi. Fa subito vedere. Grassi. Ce l'ha il tiro, eh. Però... Oggi abbiamo davanti un... Un gran portiere. Purtroppo. Sta risultando complicato portarsi da casa, eh. Bella la palla. Eh, però se... Se Charpentier non ci va bene. No, raga. Abbiamo una difesa molto stanca. Ma è Pezzella. Pezzella cosa fa? Pezzella cosa fa? Bernabè. Si riparte. Charpentier. Charpentier. Per Miaila. Eh, vabbè. Troppo. Troppo alta. Troppo alta. Miaila. Troppo. Ma veramente ho fatto... Ho fatto schifo a tirare. Hai messi. Hai messi. Bravo Pezzella. Per Miaila. Miaila. Eh, vabbè. Niente. Non sa da fa. Bravo Zorio, però. Ancora Grassi. Charpentier. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Non ci credo. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Va a abbracciare il mister che ha sempre creduto in lui. C'è anche un infiltrato che non so chi... Ma chi è sta gente? Ma chi è? Quello cappellino. Quell'altro con la maglia viola. C'è la viola, buonanotte. La maglia marrone. Ci sono stati filtrati. Ci sono infiltrati nella panchina del Parma. Sono tifosi infiltrati. Ma che... Ma cosa mi rappresenta? Meraviglioso. Meraviglioso. Veramente. Veramente, veramente meraviglioso, ragazzi. È il caso di dirlo. Che meraviglia. Che meraviglia. Lo gioco regala sempre delle perle. C'è niente da fare. È finita. 2-0 Parma. Ci portiamo a casa questa vittoria di fondamentale importanza per la classifica. Bravi, bravi, bravi. Squadra che ormai era morta. C'è difesa che ormai... Non aveva neanche più il respiro per andare avanti. Però... Ce la si è fatta. L'abbiamo dominata, eh. Obiettivamente... L'abbiamo dominata e l'abbiamo anche meritata. A questo punto. Grazie per averci concesso alcuni minuti per... Allora... Abbiamo difeso molto bene. Che è la verità. Abbiamo veramente ben difeso... La partita. Tutto ero agevole? Non direi di no. Cioè... Ehm... Agevole anche no. In realtà... E Johnson... Chi se ne frega di Johnson? Si può dire? Non mi importa di Johnson in questo momento. Bene. Ma quale Nuova Zelanda? Su... Andrò a modo di allenare la Nuova Zelanda? Ma secondo voi? No. Allegri. Che allena la Nuova Zelanda. È una cosa possibile? Non credo. Che è che va via? Non mi ricordo. È un prestito. Vabbè. Non è che... Non è che va in guerra. Sembrava che andasse in guerra. Tanto cielo. Cioè... È un prestito amico mio. Facciamo crescere. Facciamo diventare un giocatore di calcio. Che già è qualcosa. Oh... Squadra che si sta allenando molto bene. E ora abbiamo a Ternana. Che è ventesima in classifica. Noi siamo quarti. Dovrebbe essere una pratica. Non dico facile. Però... Quanto meno... Eh... Fattibile. Squadra recuperata. Sotto il punto di vista fisico. Eh... Mettiamo Antuna. Mettiamo Inglese. Assolutamente sì. E il resto... Mi sembrano tutti bene o male in forma. Eh... Mi porto giusta... Giusto giusto. Eh... Cicaldo. E... Per il resto la squadra c'è. Non farei altre cose. Va bene così. Va bene così. Torna Wonderwall. Torna Coulibaly. Due giocatori che... Sono più scarsi dei loro... Rispettivi titolari. Però mi piacciono di più. A me. Personalmente. Non so perché ma... Ho un legame più... Più... Come dire... C'ho qualcosa di più come legame. Saluto la Piero Gipardo e Daniera Dani. Prontissimi in telecronaca. Serie B protagonista oggi. Pubblico giaccato sugli spalti. C'è grande voglia di più. Ragazzi. Allora. La Ternana è ventesima. Io vorrei evitare di far... Eh... Risuscitare i morti. Sarebbe una bella cosa evitarlo. Quindi. Regalatemi una bella prestazione. E io sarò contentissimo. Bravo Coulibaly. Busio. Inglese. Ah. Mannaggia. Ancora Busio. Che va sul pallone. Che è successo? Ha indiqualato il pubblico della Ternana. Non si sa per quale motivo. Antuna. Antuna. No. Cosa ha preso? Un altro portiere miracolato? No eh. Per favore. Ma gli ha passata. Gli ha passata sta palla. Lassù. La rigore è netto. La casa mia è un passaggio. Praticamente. Corrigioco. No. No. Wonderwall. Wonderwall. Fortissimo Wonderwall. Bravissimo Miretti. A Fiff. Fiff. Quanto sedento però. Amico mio. Per Ciprienne. No. Bravo Coulibaly. Busio. Di tacco. Per Antuna. Miretti. No. Calcio. Calcio champagne. In quel di Parma. Anzi. In quel di Terno. La Ternana. Insomma. Wonderwall. Miretti. Cosa fai? Ma Ciprienne dove vai? Bravo Jovanovic. Busio. Mamma mia Busio. Mamma mia. Ma che gol ha fatto Busio. Assurdo. Questo è un gran bel gol. Questo sì. Lo voglio rivedere. Revisione gol 0-0-0. Fantastico. Ma lui non lo sa. E lo fa lo stesso. Grande Gianluca. Grande Busio. Vai. Danno in vantaggio. Contro la Ternana. Giustamente. Abbiamo avuto delle buone possibilità. E finalmente siamo riusciti a sfruttare. Questa con Busio. Che era la più difficile poi in realtà. Però vabbè. Cose facili. Non ci piacciono. Buffon. non si fa sorprendere. Non si fa sorprendere. Bravo. Fif. Robertone. Vede Miretti. No. Mannaggia Miretti. No. Pensavo che sbagliava. Ha sbagliato. Ciprienne. Ciprienne. Parma 2. Ternana 0. Stiamo dominando questa partita. Gran bel gol di Ciprienne. Gran bel gol. Guarda che roba. Ma guarda che roba. Spettacolo. Spettacolo. Complimenti perché stiamo giocando benissimo. Niente da dire. Sono veramente contento. Ah Colibali. No. Non così. Bravo Kobo. Che però evita di rifare lo stesso errore. Ok. Primo tempo molto positivo. 2 a 0. Stiamo giocando benissimo. La squadra è meno stanca. Era solamente la scorsa partita che erano tutti i mezzi morti. Perché? Non comprendo questa cosa. Vabbè. Forse perché non erano in forma partita. Allora ha influito. Non lo so. Non lo so. Inglese. Inglese. Il nostro bomber non sta segnando. E' un peccato perché si puntava molto su di lui quest'anno. Ma sta segnando sui centrocampisti. Sta segnando. Per il resto. La squadra è poco. Poco. Poco forte in attacco. Facciamo pochi gol. Quei attaccanti dico io. In generale. Tanta roba. Però attaccanti non. Pensate che quello che forse fa più gol è quell'altro. Come si chiama già. Quello che non giocava quasi mai. Oddio. Non mi ricordo più il nome. Ha un motore di memoria. Charpentiere. Ecco. Lui è quello che fa più gol di tutti. Forse come rapporto minuti giocati e gol. Ma anche lui non è che ne faccia tanti. Tantuna. No. Era tutto bellissimo. Era tutto bellissimo. Bravissimi. Vai a FIF. Questa è tua eh. Eh vabbè a FIF. Buonanotte. A FIF è veramente lento. Ma lento. La lentezza fatta a giocatore di calcio. Busio. Ci riprova? Allora. Inglese stanco. Siamo Charpentier. Busio è cotto. Cicaldo. Hernani qua. Grassi qua. Per il resto. Per il resto. Per il resto non lo so. Basta. Tra l'altro. I know è ancora qua eh. I know. Io non so perché fanno queste cose. Ti fa vedere che il giocatore va via tutto triste. Poi in realtà rimane. Perché in prestito ci andrà. Quando si aprirà il mercato giustamente. Non ci va adesso. Quindi. Cosa mi rappresenta? Non ha senso. Non ha per niente senso. No. Vabbè dai. Va bene va bene raga. Va bene va bene. No. Wonderwall. Wonderwall. Bravo Wonderwall. La FIFA ottima palla. Però Charpentier si addormenta. C'è Hernani. Vediantuna. Però è stanco. Va dalla palla per Charpentier. Non perderla. Bravissimo che non la perde. Hernani. La FIFA dove vai? E mi incontro a FIFA. E mi incontro. Dai che la seconda vittoria è in tasca ormai. È in tasca. Bravo. Charpentier. Antuna. 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 Bravissimo. È però. È troppo lento. Charpentier. Troppo lento. Non ci va bene su questa palla. È un troppo molle. Oltre che lento. No. Non sono arrivato. Bravo. Cicaldo. Ah. Ma porca. Buffon. Buffon. Rega 2 a 0. Parma che sta tornando veramente su in forma. E per me può anche andare per la promozione diretta. Diciamo che l'obiettivo ormai è quello. Non dichiarato però. O meglio dichiarato però. Si era un po' smorzato. Per via degli ultimi risultati. Ma in questo episodio stiamo facendo veramente veramente bene. Veramente bene. Allora. Pensiamo alla prossima partita. Che è chiaramente quello che devo dire. Ma perché poi mi chiedono. Cioè in conferenza stampa. Quando mai ti chiedono i giocatori avversari come ti sono sembrati. Ma che me frega. Cioè sinceramente parlando eh. Non perché uno vuole fare però. Non è una cosa interessante. Non è una domanda da fare. Allora Dest. Serginio Dest. Quando mai ci viene. Ramoni. Interessante. Luckman pure. Eilish pure. Ok. Però al momento no. Vabbè ma non ti preoccupare. Non ti preoccupè. Non ti preoccupè. Si muova tutto. Altre A che arrivano. Ho messo conto. Un mensile primavera. Oh. Ricci. Sta. Tra l'altro. Ricci ha un centrale. Tiro. Debi. Fisico. Velocità. Ma più che centrale. Ricci mi sembra più un. Un esterno. Un esterno. Un COC. Però a me. C'è un C. Non serve. Ho anche un attaccante. A buon tiro. Buon dribbling. È veloce. No. L'esterno. Esterno. Destro. E' destro. Esterno destro. Marchetti. Marchetti mio. 54. Veloce. Passaggi dribbling. Tiro 45. Non può essere un attaccante. Rega. Esterno sinistro. Umberto Esposito. Invece. Sta già facendo. ES. No. Era sempre lui. No. Ah no. No. Aspetta. Ci mancava Marchetti. Però anche lui. E' esterno sinistro. Va bene. Anzi. Anzi. Scusatemi eh. Piuttosto. Lo faccio diventare. Un esterno sinistro. ES. Così. Il suo ruolo. È complementare. Perché. Noi abbiamo le S. Non abbiamo. La S. Allora. Rapporto. Osservatore. Questo. E tanta roba. Ma non abbiamo i soldi. Purtroppo. Questi tre. Sarebbero quasi interessanti. Guerra. Soprattutto. Alex. Guerra. Sembra veramente forte. Ma. Senza money. Mi è complicato. Mi è complicato. Fare tutto ormai. Anche perché. Quanto abbiamo noi. Di finanze. Dove c'è scritto. Quanto. Budget. 99 euro. No. Scusate. Non può essere. Che la scuola di calcio. Abbia 100 euro. Vabbè. Grassi. Prestito breve. No. Lo sto. Lo vendo. Scusate. Lo presto a grassi. Che è già 27 anni. Lo sto. Lo vendo. Ha poco senso. Allora. Con l'ascoli. Ultima partita di oggi. Inglese. Ciprien. Oggi Antuna. Oggi. Gagliardo. Proviamo Gagliardo. Per il resto. Direi che la squadra. La squadra c'è. La squadra c'è. Mi sembra in grande forma. Ci portiamo. Mi ha il posto di. I know. Che tanto non serve. Alvarado. Mi torna nelle rotazioni. E per il resto. Direi. Ci portiamo anche un centrale. Assolutamente sì. Non si sa mai. Che qualcuno si faccia male. Non voglio tirare sfiga. Però. Può capitare. E vorrei. Nel caso. Non trovarmi. Proprio. Così. Sguarnito di giocatori per il ruolo. Allora. Con l'Ascoli. Ovviamente. Si cerca la vittoria. Come sempre. Quindi. Quindi. Hai un po'. Antuna. Bravissimo. Il calcio è la nostra passione. Molta calma. Coulibaly. Ciprienne. Musio. No. Le ali c'è. Le ali c'è. E la para. Afif. Calcio d'angolo. Per Coulibaly. No. Come. Pensavo fosse calcio d'angolo. Ero sicuro che ci avrebbero dato il calcio d'angolo. Ero proprio sicuro. Invece no. Vabbè. Bravo Coulibaly. La FIF. Corre. Ci prova. Eh no. Purtroppo non è andata. Bravo Coulibaly. Dai 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 dai. Che stiamo spingendo. Siamo pronti per segnare. Me lo sento. No. Ma come. Sta palla com'è passata. Calma. Ho detto calma. No. Vabbè. Nostra no. Nostra. Ok. Pensavo fosse. Loro per un attimo. Poi ci ho pensato. No. È nostra. È nostra. Non può essere loro. Bravo FIF. Ancora FIF. Per Antuna. Ancora Antuna. Di farsi male di farsi male di nuovo. Che potrebbe condizionare. Univali bellissima palla. Baccia Gagliardo. Baccia Gagliardo. Giovanovic. Per come. Una palla per la FIF. A FIF. A FIF. A FIF. Ci prova. Mamma mia FIF. Ma cosa ha fatto. Ma cosa ha fatto. Ha preso spunto da Buzio. Dai migliori. E a FIF ha fatto un gol. Strepitoso. Bello bello. Bello bello. Ragazzi. Gol veramente bello. Mi è strapiaciuto. Tiro di precisione. Da quasi 20 metri. Questo oggettivamente. È imprendibile. È imprendibile. Siamo avanti. Alla mezz'ora. Siamo avanti. Molto bene. Molto molto bene. Bravissimo Buzio. Antuna. Ancora Antuna. Antuna. Buongiorno. Buonasera. Buonanotte. Bravissimi. Difesa che recupera il possesso. Sfuma il controbiere. Bravo Bu... A FIF scusate. Me lo confondo con Buzio. Perché ha i capelli molto simili. Ma me lo confondo spesso. Kobo. Sciretti. Bravo Kobo però. Che riesce a buttarla in calcio d'angolo. Ed evita questo rischio. Veramente enorme. Enorme. Pallone in mezzo. Bravo Koulibaly. Vabbè. Primo tempo. Andato. Ora non ci resta che fare il secondo tempo. Cambi. 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 Al momento ancora no. Poi nel caso ci pensiamo. Se qualcuno si stanca sicuramente ne faremo. Calma. Bravo Ciprienne. Miretti. Si riparte. Una FIF. Brava FIF che aspetta. Molto intelligente a FIF. Gagliardo. Miretti. Uh era buonissima idea per la FIF. Anche se in realtà io ho visto Inglese che stava partendo. Ma va bene nello stesso eh. Era buona anche l'altra idea. Guarda la palla di Miretti. Busio. Vabbè. Ci pigliamo un calcio d'angolo che è abbastanza importante. La FIF lo batte. Ah. Ancora Miretti. Da fuori aria. Eh Miretti gli manca quel killer instinct da giocatore che fa diversi gol. Perché lui ha gli inserimenti per poter impensilire. Ma non è bravo. Beccarla porta bene. Cioè ha un tiro un po' così. Sarebbe da migliorare sul tiro. Miretti sì. Vabbè il resto è un signor giocatore eh. Per carità. Niente da dire. Ma è Combo. Combo che tenta la scalata da solo. È fuori gioco vero? No. No. Non è fuori gioco. A FIF. Doppietta. Così ne botto. Bene a FIF. Pensavo fosse fuori gioco io eh. In realtà però. Per carità. Che sono io per oppormi. Allora. Charpentier. Osorio. Poi mi metto Bernabè che l'ultima volta ha giocato molto bene. Alvarado che gli facciamo vedere un po' il campo. Poveraccio. E anche il vecchio Miaila. Solo 5 cambi. Perfetto. Eh dai. Poveraccio Alvarado. Ha fatto una bella. Un bel debut. Con gol. Poi. L'abbiamo un po' sottovalutato. Un po' messo da parte. Perantuna. Poverino. Andiamo lì un po' di gioco. Quanto meno a sto ragazzo. Bravo Jovanovic. Bernabè. Eh ma c'è Osorio. C'è Osorio. Ah mannaggia. Lasco di ritorno in attacco. Osorio è però la spizzica male. Ma bravo Jovanovic. Bernabè. Charpentier per Miretti. Miaila. Miretti. Robertino. Robertino. No. No Robertino. Mannaggia. Era buonissima la possibilità. era tanta roba. Dai. Eh nostra. Nostra. Come loro. Come fa a essere loro. Come fa a essere loro. Cioè come fa a essere loro. Impossibile. Non è legale questa cosa. No. La posizione ottima. Eh niente. Purtroppo il gol è arrivato. Non è un gol pesante. Anche perché. Che vinciamo 2 a 0 o 2 a 1. I tre punti comunque arrivano. Però insomma preferivo non subire gol. Sinceramente. Preferivo non subirlo. Però vabbè. Alla fine sono tre punti che ci portano a non so dove. Comunque sicuramente tra i primi posti. Sicuro sicuro. Non so precisamente dove ma ci guarderemo adesso. Appena faremo dopo l'intervista. Dopo ci guarderemo subito. Allora. Allora. Ringraziamo. Ma perché. Ma che ve frega. Se non gioca Cicaldo. A FIF. No. A FIF ha fatto una prestazione assurda. Cioè a FIF è veramente incredibile. Veramente a FIF. Un giocatore che. Ha una qualità. Non è molto veloce. Però palla. Palla al piede. È tanta roba. Oddio queste qui. Le faccio io a telecamere spente ragazzi. Allora. Vediamo un po' la classifica. Siamo quarti. Siamo ancora quarti. Quarti però ha due punti dal Bari. Quindi si può fare. Si può fare. Siamo lì eh. Non siamo molto distanti dal primo posto. Alla fine. Due punti può essere una partita. Quindi ci sta. Ragazzi. Io vi ringrazio molto per aver visto questo video. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao e alla prossima.